Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Endure the Stars, un gioco della Grimlord Games che non è ancora stato portato in Italia, almeno per ora un'edizione italiana non esiste. Io colgo l'occasione ovviamente per ringraziare di cuore la Grimlord Games, tra l'altro ho iniziato da poco, è la prima volta con loro questa collaborazione, quindi è una cosa freschissima. E le ringrazio veramente di cuore per avermi mandato a casa una copia di Endure the Stars e mi hanno mandato anche Village Attacks. Village Attacks, gioco che vedrete prossimamente e vi dico già che di questa edizione non c'è l'edizione italiana di Endure the Stars, di Village Attacks invece c'è il gioco base, il Core Box, l'espansione no, tradotto in italiano dalla Weird Edizioni. Comunque tanto poi vi metterò il link nel prossimo video. Parlando di questo gioco, mi aveva incuriosito molto perché la versione che vedete qui davanti è la versione 1.5, perché la scorsa estate, non voglio dire una cavolata, ma mi sembra era verso luglio-agosto, hanno fatto un secondo Kickstarter. Per una versione aggiornata è riveduto ovviamente delle regole, il manuale è stato organizzato un po' meglio perché all'inizio era uscito magari un po' così e così. Hanno rivisto diciamo un po' le regole e ovviamente hanno ampliato anche il contenuto che c'è dentro. È un gioco spaziale, è un gioco di sopravvivenza, è un gioco che non lo hanno mai nascosto, ma è anche la cosa che a me piace da morire perché tra tutto pieno qui dietro. È un gioco che vuole essere un tributo, non copiare, vuole essere un tributo ed ispirarsi a Zombicide, soprattutto l'ultimo Zombicide uscito, Invader. Ora poi le meccaniche che ve le vado a descrivere velocemente, che sono sempre meno male, sono quelle lì. Però a differenza di Zombicide c'è due cose che lo diversificano molto. La prima rispetto a Zombicide è che ci sono molti meno nemici sulla mappa di gioco, o meglio, nemici ce ne è tanti, però non è che ne sponano ondate e legioni che poi a un certo punto ti sovverca e non ce la fai nemmeno più a resistere, quindi ce ne sono meno. Però la cosa bellina è che i mostri si muovono con un token movimento, tipo il rilevatore di movimento di Alien, di Colonial Marines, per farvi capire. È come se è visto anche in giochi alla Space Hulk, ed è una cosa bellina, cioè fino a che non li vedi, fino a che non c'è linea di vista, te non sai cosa c'è sotto quel blip. E poi un'altra cosa molto interessante di questo gioco, che gli dà, secondo me, un contenuto molto più survival, perché è più difficile trovare il giusto equipaggiamento, magari le cure, kit, le sopravvivenze e cose del genere. E poi c'è un dado che va tirato sempre ogni volta che si fa un attacco, o in corpo a corpo, o un attacco a distanza, perché l'arma si potrebbe gemmare, quindi si potrebbe rompere. Potremmo andare in gemming con un'arma da fuoco, ma anche rompersi direttamente un'arma da corpo a corpo. Ed è una cosa interessante, perché magari lì per lì non te l'aspetti, ti si rompe l'arma e sei un attimino nella cacchetta. L'ambientazione del gioco ci vede come equipaggio di una nave a lunga esplorazione, quindi a lungo raggio, la Ikari, che è una nave, vedetela un po' come la Covenant di Alien, che va ad esplorare lo spazio, ovviamente l'universo, alla ricerca di nuovi mondi terraformabili e abitabili. E questo pianeta, insomma, è stato trovato, però hanno fatto degli esperimenti di laboratorio a bordo delle Ikari, gli scienziati, perché è una nave colonia, tipo la Ishimura, immaginatevi una cosa immensa, o appunto la Covenant, dove hanno creato una razza di alieni, tra molte virgolette, comunque creata in laboratorio, con le giuste caratteristiche fisiche per provarli a buttarli su questo pianeta o sui pianeti, magari, che ne so, ad alta gravità e cose del genere, e vedere se subveni del genere potrebbero resistere ed adattarsi, prima ovviamente di mandarci l'essere umano, che sono tutti quanti in criostasi. Però ovviamente questa specie, creata in laboratorio, che li chiama alieni, ma non solo dalla fin fine, si sono risvegliati e hanno preso il possesso della nave. E ora immaginatevi che il gioco è tutto quanto ambientato a bordo delle Ikari, dove voi sarete un gruppo di sopravvissuti che dovranno proprio sopravvivere da questa nave completamente infestata da questi mostri. Ricordo anche un po' il film Pandorum, che tra l'altro vi consiglio, è un'americanata ed è un filmettino, però come film di serie B, anche C, è interessante. Gioco da 1 a 6 giocatori, età 14 o più, secondo me si può anche abbassare tranquillamente di un anno o due, durata dai 30 ai 180, 30 minuti non ce la fai a fare una partita del genere, anche perché le mappe sono belle grandi, 180, sì, ci può andare come tempo. Ed è veramente un titolo molto interessante, come vi ho detto, nella versione 1.5. Unboxing, scatolona immensa, piena zeppa di roba, bella grande, guardate, rispetto alla mano, ha oltre a essere grande anche bella profonda, perché ovviamente dentro è piena zeppa di miniature, insomma contenuti c'ha veramente tanta 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 roba. Ci sono già anche le espansioni di questo gioco, più che altro altri tipi di personaggi, mostri e cose del genere, e vedete anche il disegno che c'è sopra, molto bello, evocativo. L'ambientazione poi ricorda sempre un po' Alien, Nemesis o comunque qualcosa del genere. Apriamo. Regolamento, vedete, versione 1.5, ovviamente in inglese perché il gioco è in inglese, di 50 pagine, ma non vi mettete paura perché se non... A parte il piano zeppo di esempi, bello colorato, quindi di facilissima lettura, il regolamento è di 21-22 pagine, tutto il resto sono regole opzionali per renderla ancora più difficile, e poi tutte quante il setup delle missioni, che ce n'è veramente tante. Quindi, quando l'ho aperto ho detto, no, mi dica che questi sono dei regolamenti pompati e tutto. Ragazzi, è Zombicide con qualche pagina in più, quindi è veramente semplicissimo. Una paccata di miniature, ce n'è veramente tantissime, sono belle, di plastica ovviamente, non sono di resina, e d'altissima qualità. Vi faccio vedere ad esempio un personaggio, cioè ragazzi, guardate, bellissimo. Questo è il Marine, perché anche qui c'è ovviamente il capitano della nave, c'è magari l'ingegnere, c'è il medico, lo scienziato, e questo è il Marine, guardate la qualità. Bellissimo, bellissimo, mi garma, veramente da morire. Per poi prendere un paio di mostri, come vi ho detto, creati appunto dall'equipaggio delle Ikari, direttamente al laboratorio, e la qualità, ragazzi, è veramente bella, 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 ecco. Alle miniature sicuramente do un voto altissimo, perché hanno avuto un'attenzione ai dettagli e tutto quanto. Non è tanto il fatto della bellezza della miniature in sé per sé, quanto ci aggiungono veramente tanti dettagli e ci stanno veramente attenti, è bello. E un altro mostro, tanto per farvi vedere un altro, guardate il dettaglio, la qualità, anche questi sono curiosi di vederli veramente dipinti. Ci sono altre miniature sotto, ovviamente, quelle più grandi. Qui vedete un exosuit, che è ispirato ovviamente a quella di Aliens, il Power Loader, guardate, è bello. L'alzacarichi, ovviamente questo qui è in versione da combattimento, bellissimo. E poi, ovviamente, mostri di dimensioni già più grandi, tipo questo qui, addirittura con le ali che può volare, sono veramente, veramente belli. Plance dei personaggi. Dado rosso, ferite critiche, perché in questo gioco, oltre a subire ferite, potrete subire anche delle ferite critiche che vanno a meno mare il personaggio. E dado direzione, per vedere verso che direzione si sposteranno i mostri. Stendi in plastica, dove mettere le porte. Ovviamente pedine colorate per i personaggi. E poi ci sono un milione di token vari, tipo token suono, perché anche in questo gioco, come Zombicide, c'ha il livello di suono dove verso cui si spostano i mostri. Token delle porte, come vi ho detto, da mettere sugli stendi. E tabelloni di gioco, che sono ragazzi disegnati e colorati da paura. Questi, poi belli, spessi e resistenti. Questi sicuramente sono fra i più belli che abbiamo visto in un gioco del genere. Ovviamente un dungeon crawler. Però questo ha leggermente più contenuto survival rispetto a uno Zombicide. Due mazzi di carte. All'interno ci sono ovviamente carte equipaggiamento, carte evento e tutto quello di cui avete bisogno per giocare. Una scatolina rettangolare, lunga, bianca, dove all'interno ci sono altre miniature, che ovviamente sono altri mostri. Vi faccio vedere un po' come il giro in turno. Facendovi vedere la plancia di ciascun personaggio, vedete, è molto semplice anche da leggere. C'ha poche scritte ed è nel classico stile Zombicide. Comunque, cursore che dovete attaccare con i pirulini che vi ho fatto vedere durante l'unboxing. Sotto, quindi la terrà sempre un pochino rialzata. Indicatore della vita, che a inizia avventura parte da 10. Indicatore del resolve, che praticamente il resolve è tipo la risolutezza o comunque i nervi freddi del vostro personaggio. Perché in questo gioco c'è anche la possibilità che il vostro personaggio, insomma, con quello che dovrà andare a affrontare, si metterà paura ed impazzisca. Che è una meccanica survival in più, che vi dicevo, rispetto a Zombicide. Poi nella scheda abbiamo lo slot per il corpo, ovviamente solo armature. Lo slot per le munizioni. Le munizioni sono una cosa importante nel gioco, uguale spiccicata a Zombicide, che vi danno dei bonus in più all'arma. Ma comunque le ammo quando le usate, cioè quando le mettete nello slot ammo, che voi le utilizzate oppure no, comunque durano un turno. È una cosa un po' strana però funziona così. Cioè anche se non le avete sparate, a fine turno le dovete togliere dopo la fase dei mostri. Arma. Che in questo gioco abbiamo i valori qui sottelencati che sono la gittata. In questo caso il fucile è impulso, comunque d'assalto tira a distanza 0, quindi corpo a corpo o 2. Poi tira 4 dadi, colpisce con un 4 o più e l'ultimo in fondo, a differenza di Zombicide in questo gioco, tutte le armi fanno un danno. Tutte, dalla A alla Z, contano soltanto i numeri di colpi che vanno a segno. Comunque ciascun colpo, dado che andrà a segno, farà sempre una ferita. Il livello alla fine, il numero e il valore alla fine, è il valore di rumore che fa quell'arma. Quindi questa che ha un livello di 3, è un'arma che fa un casino, un baccano totale. Poi nell'inventario ci potete mettere 3 carte. Quindi inventario 3 carte, ammo 1, body, corpo 1, testa, ovviamente per l'ermo un'altra carta. Poi qui avete la carta del vostro personaggio, che vedete che questa qui è mobile, ce la appoggiate sopra. E sono le abilità attive, quindi che per utilizzarle dovete sprecare un'azione, perché anche in questo gioco avete 3 azioni. Sempre, non ve lo sto nemmeno più a dire, ma come su Zombicide. E per usare le abilità dovete sprecare un'azione. Mentre invece per usare l'abilità passiva, quella è sempre attiva. Quindi l'abilità passiva del personaggio, non sprecate azioni, ma è sempre attiva. Quassù in cima abbiamo 3 carte resolve, che dovete utilizzare in momenti particolari, che vanno ovviamente con il vostro valore di resolve che avete qui accanto. E una carta accomplishment, che le potete poi pescare anche nel corso dell'avventura, che sono carte che vi danno una missione. Voi fa, la potete anche non fare, non è una vostra missione che dovete portare a compimento. La missione che dovete portare a compimento è soltanto quella del setup dell'avventura che avete scelto. Comunque, è un obiettivo che se lo portate a compimento, lo girate e prendete il reward che c'è scritto sotto. Quindi niente di più, niente di meno. Poi, i dadi, che come ho detto in questo gioco i dadi sono i dadi da 6. Dado rosso per le ferite. Ogni volta che subite una ferita in questo gioco dovete sempre tirare questo dado e vedere la menomazione che avete ricevuto. Dado direzione per i mostri. I mostri si muovono sempre nella direzione dove dice il dado. Un solo mondai, che serve per quando entra in un gioco, mostri particolari o comunque quando ve lo richiede, l'avventura e poi quello più cattivo e importante del gioco è questo dadone immenso. Guardate la blu, bello, parefat di obono di pongo. Che questo è il gemdai. Quindi per quando le vostre armi, sia da corpo a corpo che da fuoco, si incepperanno. Vedete, quando esce il simbolo che c'è sopra, in questo caso qui, l'arma si è inceppata. Quindi un'arma che si inceppa non vi permette di sparare. C'è la possibilità che l'arma si inceppi e venga disinceppato utilizzando una delle vostre tre azioni o che proprio si rompa. Quindi questo è il gemdai. Gettone del primo giocatore. La mappa, quindi abbiamo fatto una a caso, a volte le mappe sono fatte da quattro pezzi collegati separatamente, a volte possono essere fatti anche da otto, sei, dipende dalla difficoltà anche della missione. Vabbè, vedete gli eroi laggiù in fondo, la mappa divisa in zone, dalle righe gialle che vedete, quindi questa è una zona, 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 mentre l'interno delle stanze è divisa appunto dai vari interni. Quindi magari questo edificio qui ha una stanza, una stanza, una stanza e una stanza. Paro, paro, paro come su Zombicide. Ci sono le porte che quando sono messe così, vuol dire che la porta è chiusa ma può essere aperta. Quando invece la missione vi dice di metterle così è per ricordarvi che la porta è proprio sbarrata, quindi per aprire questa porta ci vorrà un'azione particolare o di sfondamento, di hacking, comunque, o una chiave magari in tante altre missioni o attivare un terminale, comunque questa porta non può essere aperta con un'azione normale, che se no un personaggio con una semplice azione l'andrebbe ad aprire e a togliere. Vedete, da una parte c'ha la luce rossa, per ricordarci che è ancora chiusa, una volta che l'avete aperta la girerete e non la levate dalla mappa, la girate sulla luce verde e la lasciate così per ricordarvi che è quella porta aperta. Se invece è messa così è proprio Locked e vi servirà un'azione particolare. Vediamo, c'è soltanto un'icona in particolare, vedete, in alcune stanze c'è il simbolo di una pistola. Vuol dire che in tutte le stanze del gioco, tutte, nei corridoi no, in tutte le stanze del gioco potete cercare equipaggiamenti, mentre invece nelle stanze col simbolo della pistola potete cercare anche le armi. Quindi qui cercate equipaggiamento o armi, in tutti gli altri settori cercate soltanto equipaggiamento. Ci sono un po' di carte nel gioco, a parte quelle che vi ho fatto prima vedere, le carte Resolve e Accomplishment, che sarebbero praticamente questo è il mazzo Accomplishment. Ve le faccio vedere un pochino qui davanti col dorso verde. Poi ci sono le carte di riferimento per i mostri, però anche a fine manuale c'è una tabella che ve le fa vedere. Quindi ci sono tutti quanti i mostri, perché anche il mostro attacca a un valore di attacco, attacca a distanza, attacca in corpo a corpo, gittate, il tipo di danno che fa e cose del genere. Poi abbiamo il mazzo dei boss, perché purtroppo in questo gioco entreranno anche in campo boss particolarmente cattivi. Abbiamo il mazzo Resolve, che è quello viola, quindi tutto quello che è legato, tra virgolette, ma alla fin fine è quello, alla sanità mentale del vostro personaggio. Le carte Evento, che ne dovete pescare nel primo turno, no, ma dal secondo turno in poi, prima della fase dei giocatori, quindi dopo che le dimostri, dovete pescarne una, ed è la carta Evento che sarà attiva durante tutta la fase del turno. Abbiamo carte Equipaggiamento, che sono queste blu, come quelle che vi ho fatto vedere prima sulla scheda del personaggio. Quando girate una carta Equipaggiamento durante una ricerca ed esce questo simbolo, vuol dire che c'è stato un rumore di Intensità 4. Carte Armi, quindi le armi che vi ho fatto vedere sulla scheda del personaggio, e carte Refugi, che vi servono in situazioni particolari, perché in alcune missioni, ovviamente non siete solo voi a bordo dell'Eikari, troverete anche dei sopravvissuti, in alcune missioni dovrete salvarli, in alcune missioni vi daranno una mano, e c'è anche un mazzo dedicato direttamente a loro. Vi faccio un pochino vedere come funzionano le regole, che poi sono poche e molto semplici. Ciascun personaggio ha tre azioni. Tre azioni che possono essere passare oggetti, compere un obiettivo, che gli obiettivi nella missione sono segnati da questi. Quindi quando vedete un cursore del genere, un token del genere, vuol dire che lì c'è uno degli obiettivi della missione. Quindi nel caso partiamo da lì, io con la mia prima azione delle tre mi muovo qui, e con la seconda azione faccio l'obiettivo. Magari l'obiettivo ti potrebbe chiedere anche più azioni, quella a seconda della missione. Tra l'altro veramente ragazzi mi soffermo un attimo quanto è bello sto Marine. Col mantello mi garba veramente, lo userò sicuramente anche per altri giochi. Quindi si può fare la missione, l'obiettivo. Un'altra azione che si può fare è un'azione di trade. Possiamo scambiare oggetti, un numero che ci pare con un altro personaggio, appunto col personaggio di un altro giocatore, oppure possiamo direttamente fare del suono, e per ogni token suono sono questi qua giù. Vedete che hanno un punto esclamativo e un numero sotto. Quindi per ogni punto che sprechiamo delle nostre azioni possiamo fare un suono. Che ne so, con uno mi muovo qui, gli altri due punti azioni dico faccio un suono da due. Quindi metto in questa zona qui un token suono da due, per ricordarci che il mio personaggio ha fatto un suono per attirare i mostri. Perché attirare i mostri è simile a Zombicide, però in maniera un pochino più particolare. hanno fatto una fusione fra Zombicide, secondo me, e Space Hulk, che come nemmeno è piaciuto da morire. Quindi questa è un'altra seconda azione. Oppure un'azione potrebbe essere, mi sposto uno, due, e apro una porta. Porta che vi ricordo che da rossa deve essere girata a verde, nel caso fosse così la porta la dovrei distruggere, oppure me lo dirà l'avventura come si aprirà una porta messa così, magari cerca la chiave, cerca il terminale e cose del genere. Le porte, se vi danno noia toglietele, però lasciatele, perché a volte le porte con eventi o cose del genere si potrebbero anche richiudere, e quindi poi vi servirà andare a vedere setup come metterla. Voi la mettete sul lato verde. Quando aprite una porta, non rivelate quello che c'è nella stanza, semplicemente avete aperto la porta, quindi poi potrete proseguire all'interno e fare le vostre azioni. Potete fare un'azione di ricerca, come vi ho detto prima, ricerca in una stanza, non corridoio, in una stanza qualsiasi di un equipaggiamento, che potrebbe uscire anche un suono, come vi ho fatto vedere, poco prima, oppure potrebbe uscirvi un oggetto, oppure andando in una stanza col simbolo di un'arma, potete cercare direttamente un equipaggiamento, ad esempio potrebbe uscire una carta così. Quindi ricordatevi che gli equipaggiamenti sono nella stanza con la pistola rossa e oggetti ovunque, ma non nei corridoi. Quindi queste sono le azioni che si possono fare di base. Come in qualsiasi gioco del genere, vale, intanto vi faccio dire un personaggio solo il Marine, che è più bello, vale ovviamente la visuale. Quindi questo personaggio ha visuale qui, su questo corridoio, ed ha visuale qua giù, fino in fondo. Non c'è una cittata, praticamente lui vede su tutto il corridoio. Ovvio c'è la cittata delle armi. Nel suo caso il fucile tira a distanza 0 o 2, quindi 1 o 2. Il suo fucile tira massimo fino a questa zona. Ma la linea di visuale l'ha ovunque. Se ci fosse qualcosa qui, ad esempio, per quanto è dietro un angolo della stanza, lui comunque lo potrebbe vedere. Perché vedete, questa zona qui è tutta quanta connessa, non è divisa da una riga. Quindi anche se io prendo un nemico, a caso me ne prendo uno, e lo metto qui, potrebbe anche essere qui, potrebbe anche essere qui, potrebbe anche essere qui, perché è una zona unica. Quindi anche se è qui dietro, lo vede. Comunque gli entra in visuale. Però, ad esempio, se lui fosse qui, ovviamente potrebbe vedere un mostro qui, ma non potrebbe vedere un mostro di qua. Perché a questo punto non c'è più visuale. Stessa cosa se un mostro è questa porta, ripeto, è girata sul verde aperta. Se questo mostro è qua giù, e questa zona, vedete, ha delle aperture, dei portelloni, e lui è qui in questa zona, il mostro lo vede. Perché la porta è aperta e vede all'interno. Stessa cosa se magari lui fosse in questa stanza qua giù, e il mostro fosse qui, lo vedrebbe. Se il mostro fosse in questa stanza qui, lo vedrebbe comunque, anche se è qui dietro l'angolo. Perché questa stanza ha un'apertura di porta, quindi ha una linea di visuale, e il mostro l'avete messo qui per puro caso, ma potrebbe essere qui. Quindi lo vede. Ma nel caso il mostro invece fosse qua giù, no, perché a questo punto, in diagonale, le porte non sono collegate. Quindi la gittata dell'arma è quella scritta sulla scheda, la visuale è quella, ben o male, anzi no, è proprio quella di Zombicide. Poi ci sono i token suono, fra i 2000 che ci sono sul tavolino, ci sono i token suono, rilevatori di movimento, che sono questi qua. Questo inizia avventura, il gioco vi dirà, mettetene un tot, che ne so, ne mettete uno qui, ne mettete, ve ne metto un pochino a casa per farvelo vedere, ne mettete uno qui, e ne mettete uno, boh, mettiamo caso qui. Ora, i token suono si muovono sempre, sempre nella fase dei mostri, tirando questo dado. Regola vuole che, se il token suono è entro, tre di distanza da un personaggio, non dovete tirare questo dado, ma si muoverà di uno verso il personaggio, cioè verso praticamente l'eroe più vicino, il personaggio più vicino. Quindi, contiamo questo qui a distanza, di quanto è? A parte che qui c'è una porta chiusa, perché comunque lui dovrebbe fare un giro, uscire dalla porta, e sia chiaro, i mostri non aprono le porte, quindi questo anche come su Zombicide, ma magari leviamo questa porta, facciamo caso che non c'è, contiamo la distanza, uno, due, tre. Questo non è a distanza tre, però, se questo fosse, se il personaggio fosse stato qui, e questo fosse stato qui, e non si vedano fra di loro, perché lui non vede il mostro, e il mostro non vede il personaggio, però quanta distanza è? Uno, due, tre. Ok, quindi nella fase dei mostri, questo si muoverebbe di uno, verso il personaggio. Nel caso, invece, se è a distanza, tre o più, due ragazzi, quindi uno, due, tre. Se è a distanza quattro, si muove verso di lui, se è a distanza cinque, si muove verso di lui, ma se è entro e sotto i tre, quindi se è già a tre di distanza dal personaggio, quindi uno, due, tre, nel turno successivo, come ho detto, si muove. Nel caso fosse invece sotto le tre unità di distanza, quindi uno, due, non si rimuove più verso di lui, ma dovete tirare questo dado. Tirando questo dado, vedete la freccia verso dove indica, in questo caso, si muove verso di qua, ed entrando in visuale si rivela. Se invece andate a tirare un dado, che indica da una parte dove il mostro non può andare, perché in questo caso qui il mostro non è che può sfondare il muro, oppure andare a picchiare contro la parete, non sono scemi, dovete prendere il dado e girarlo in senso orario, quindi girandolo in senso orario, ci può andare in questa direzione, sì, e allora torna indietro. Se invece fosse stato, se lui fosse stato qui così, e fosse uscito questo risultato, non può andare a sbattere contro il muro. Quindi girandolo in senso orario, sarebbe andato giù. Una volta che il mostro ti entra in linea di visuale, dovete girare questo token, vedere il numero di mostri che ci sono, e mettete i mostri che sono venuti fuori. Quindi in questo caso, rivelati tre swarmer, questo lo togliete, mettetelo da parte, e fate uscire i mostri, perché come si entra in linea di visuale, i mostri vengono sponati. Quando i mostri sono token suono, rilevatori di movimento, fanno una sola azione per turno. Una volta che invece sono rivelati, possono fare tutte quante le loro azioni. Però, tra il turno in cui vengono, nello stesso turno in cui vengono rivelati, non possono comprare le loro azioni, sono semplicemente stati scoperti in linea di visuale. Quindi questa è la regola dei token suono. Quando sono a tre o oltre, dovete muoverli di uno verso l'eroe più vicino. Quando sono sotto i tre, quindi a due o uno di distanza, dovete sempre tirare il dado. E questa è una cosa che sinceramente ho preferito a Zombicide, perché se qui ciò dei mostri, in questo caso vabbè, non tocco il suono che ancora non vedo, per forza di cose faccio la conta di turno e faccio. Ragazzi, però questo fra due turni, ma rimane corpo a corpo, quindi prima l'ammazzo meglio è. Ma la regola, la componente survival di questo gioco è interessante. Lui potrebbe dire, speriamo non mi sentano, sto zitto, non faccio rumore, non faccio niente, non mi muovo, non soffio, non respiro, non sparo, tanto meno. Potrebbe sì venire verso di me, però magari se mi va bene, potrebbe andare in un'altra direzione. E se che a me mi ha salvato in quel momento lì, perché non avevo munizioni per combattere, o avevo magari l'arma rotta, non potevo combattere, o cose del genere. Questo è molto interessante, mi garba, c'è una meccanica di stealth di fondo, perché una nave del genere, non vai soltanto ad ammazzare, vai anche a nasconderti. Regola vuole che quando sulla mappa, non ci sono più token suono, l'avete finiti tutti quanti, uno lo dovete rimettere, quindi uno magari, ci sarà una regola particolare del setup, ovviamente della mappa, che vi dirà, in queste zone di spawn, fannere spawnare un altro. Quindi almeno un token ci deve sempre essere, non è che se avete ripulito la base, la mappa di gioco, non ci sono più mostri in giro. Quando andate a combattere i mostri, ricordatevi che il vostro personaggio, ha le azioni che avrà all'inizio del turno, quindi ha sempre quelle tre azioni lì, e lui potrebbe dire, mi muovo, e passo attraverso senza combatterli. Per passare attraverso dei mostri, dovete fare sempre un tiro risolutezza, un tiro risolve, che vi ho fatto vedere, ciascun personaggio inizia con un valore di 10. Voi andate a tirare per i tiri risolve, due dadi, e il risultato dei dadi, deve essere inferiore, al vostro attuale valore di risolve. Se invece è uguale o superiore, avete fallito la prova, e perdete anche un punto risolve, che dovete aggiornare sulla scheda del personaggio. Magari lui c'ha 10 di partenza, vado a tirare, ho fatto 8, quindi ho superato il test, posso andare via dei mostri. Quindi mi posso muovere da qui a qui, senza subire ferite, e subire niente. Posso anche fare un'azione dove vado a dire, ok, io vado qui, vado qui, senza fare il tiro di risolve, me ne voglio andare, punto e basta, però se fallisco il tiro di risolve, devo rimanere qui a combattere, e prendo un punto di risolve. Se invece faccio quest'azione qui, mi becco un punto ferita per ciascun mostro, perché mi hanno artigliato, però sono riuscito a scappare. Se invece volesse attaccarli, a quel punto lì si va a tirare un solo D6, e l'arma che abbiamo dato al Marine, per fare questo esempio, tira a distanza 0-2, tira 4 dadi, e colpisce col 4+, quindi io vado a tirare i 4 dadi, così, e soltanto quelli col 4+, al solito la mi cacca nelle mani, ho fatto un risultato. Quindi è andato a segno un colpo, è andato a segno un colpo, che fa 3 di rumore, quindi qui mettiamo un token, ora poi vi dico a cosa servono, qui metto un token rumore da 3, quindi un valore di rumore da 3, e ho fatto una ferita, perché come vi ho detto, le ferite sono i danni che entrano dell'arma. Una ferita basta ed avanza ad ammazzare uno swarmer. Ovviamente, mostri basi piccolini così, le ammazzate, se un mostro ha un'armatura, magari potrebbe dirgli l'armatura, con 3 o più salva la ferita. Io tiro, se ho fatto 3 o più ho salvato la ferita. Comunque in questo caso, uno l'ho ucciso, ed è finito il primo attacco. Il secondo attacco vado a ritirare i dadi, questa volta me ne è entrato sempre uno, io giochi con dadi non le posso fare, però comunque, nel caso dell'iswarmer, basta e avanza per ucciderlo. Quindi, ancora una volta, non dovete sommare i token di suono, non è che ho risparato, l'arma fa 3, quindi ce ne metto un altro da 3. Dovete mettere sempre quello di valore più alto, rispetto alla vostra arma, quindi che abbiate sparato una volta, o 500, ormai il valore di 3, è quello lì che dovete lasciare sulla mappa, perché i rumori attirano mostri, ovviamente, e più è forte il rumore, più vecchio di voi attira il mostro, ma a sua volta il numero che c'è scritto sul token suono è anche la distanza. Questo cosa vuol dire? Che se c'è un... un blip, qui, ok? E cosa vi ho detto? È sotto la distanza, è a 1-2 di distanza, quindi sotto il 3, io ora dovrei andare a tirare il dado per vedere la direzione. Però, è anche entro e sotto, anzi, i 3 di distanza del suono, perché avendo fatto un suono da 3, si contano tutte le distanze, tutte le caselle a livello 3, quindi 1, 2, 3, quindi se ci fosse un mostro qui, comunque entro 3 dal suono, ha sentito il suono e verrà verso di me. Se ci fosse un mostro qui, che entro 1, 2, 3, 4, invece non avrebbe sentito il suono, però comunque regola vuole che si muoverebbe verso di me. Questo perché? Perché se qui c'è un blip, qui c'è un altro blip, e qui c'è un blip, con un suono di 3, io non dovrò più andare a tirare questo dado, perché per forza di cose li ho attirati, perché sono i 3 di distanza da me, quindi questo verrà qui, questo verrà qui, questo verrà qui. Regola ovviamente vuole che, se in una casella c'è più vicino un altro personaggio, che anche non ha fatto suono, ma in linea di visuale, i mostri ovviamente non verranno verso di me, ma sciameranno addosso a lui, quindi anche se il suono l'ho fatto io da 3, sì, vengono verso di me, però fermandosi nella casella, e avendolo in visuale, andranno tutti quanti ad attaccare lui, e ovviamente anche in questo caso qui, dovranno essere rivelati. ogni volta che subite un punto ferite in questo gioco, dovete prendere sulla scheda del personaggio, e abbassare il livello di ferite, banale dirvi che quando il personaggio arriva a 0 è morto, e ogni volta che fallite, o per un evento, o per il resolve, come vi ho detto prima, per scappare, e ricordatevi che dovete fare un test di resolve, ogni volta che rivelate un bleep, e per la prima volta incontrate un mostro, perché ovviamente vi fa paura, quindi la prima volta che rivelate uno swarmer, dovete ovviamente girare il bleep, e fare un tiro di resolve, la seconda volta che incontrate uno swarmer, non lo dovete più fare, perché ormai l'avete già presi un po' in simpatia sti mostri, però tutti gli altri generi di mostri che ci sono nel gioco, dovete sempre fare un resolve, resolve che si fa anche in situazioni particolari, durante quando un evento ve lo chiederà, ovviamente più si abbassa, quando fallite il tiro di resolve, che dovete fare sempre di più, se fate uguale o sotto, perdete un punto, scalate un punto, e poi diventa, mano a mano che li perdete, sarà sempre più difficile, superare i test di resolve, quando resolve arriva a zero, e vi viene chiesto di fare un tiro di resolve, ormai praticamente siete fuori di testa, pazzi, provati da tutto quello che avete visto, a bordo delle cari, iniziate invece a perdere punti ferita, quindi un tiro di resolve sbagliato, con resolve a zero, vi leva punti ferita, a zero, si muore, arriva la fase di, cioè finisce la fase dei giocatori, dove questi qui sono rivelati, mostri tutto quanto, quando tutti i giocatori hanno agito, tocca i mostri, che ovviamente i mostri si muovono verso il suono, come vi ho detto, fase dei mostri, i mostri hanno varie azioni, tipo gli swarm, erranno due o tre azioni, una cosa del genere, comunque faranno l'azione che devono fare, e come su Zombicide, i mostri non tirano dadi, quando vi arrivano corpo a corpo, e attaccano, fanno danni, punto, cioè non è che dovete tirare un dado, però l'eroe, nel caso abbia un'armatura, potrà fare un check per salvarsi, come in questo caso, che ha un'armatura di 5+, poi ci vengono incontro, token particolari, tipo token malfunzionamenti, o eventi particolari, che ci chiama la missione, oppure incendi, perché poi nel gioco, una cosa importante, che quando subite una ferita, qualsiasi tipo di ferita, anche la ferita fatta da un mostro, dovete andare a prendere, e tirare il dado, questo qui rosso, che vi ho detto all'inizio, perché, quando tirate questo dado, dopo una ferita, vedete ci sono dei vari simboli sopra, e vi danno degli effetti negativi, nel caso non esca niente dopo il danno, avete subito una ferita, punto e basta, ma nel caso vi esca questo qui, il vostro personaggio, è stato ferito alle gambe, quindi potrà muoversi, di un massimo di due caselle per turno, anche se ha due azioni, tre azioni, non potrà fare tre movimenti, ne potrà fare soltanto due, e dovete aggiornarli, direttamente, sulla scheda del personaggio, come vedete qui, andandoci a mettere, un cursorino sopra, per ricordarvi così, che lui ha subito una ferita alle gambe, potrebbe subire una ferita al corpo, o una ferita critica alla testa, tanto comunque poi, dopo i disegni, li vedete sempre addosso, c'è il corpo, c'è la testa, e c'è le gambe, quindi ci andate a mettere un cursorino, per ricordarvi che è ferito, anche se recuperate punti ferita, la ferita critica rimane, dovete trovare dei kit di pronto soccorso, o il medico in gioco, che vi fa un'azione per togliervela, però anche se risanate punti ferita, questa rimane, in più, ultimo ma non meno importante, c'è il dado del jamming, che ogni volta che sparate con un'arma, o attaccate in corpo a corpo, dovete tirare anche questo dado, nel caso che vi esca questo simbolo, vuol dire che l'arma si è bloccata, però dovete usare un'azione per sbloccarla, quindi se sparate, tirate i vostri dadi, e esce questo simbolo qui, vuol dire che l'arma non ha sparato, e avete sprecato un'azione perché si è bloccata, dovete sprecare una seconda azione per sbloccarla, e una terza per risparare, però ovviamente ritirando il dado, se invece vi esce questo simbolo col fulmine, sparate, quindi l'arma ha sparato, tirate i vostri dadi, quello che dovete fare, ma dopo aver sparato l'arma si rompe, stessa cosa, se fosse invece un'arma da corpo a corpo contro il mostro, avete tirato la botta, però l'arma si è rotta, quindi il casino di questo gioco, è che se voi rimanete senza armi, in questo gioco disarmati non si attacca, quindi se rimanete senza un'arma da corpo a corpo, o anche il fucile impulsi che avete trovato si rompe, non potete assolutamente più attaccare, quindi come vedete ha molto più contenuto survival, rispetto a uno zombie side, dove invece le armi non si rompono mai, e tiri veramente sempre i trini di dadi, quindi ogni volta che vai a sparare, hai sempre la paura, non soltanto di fare suono, ma quanto che ti si rompa l'arma, quindi come vedete alla fine dei conti, anzi sono stato io troppo logoroico come sempre, però alla fine dei conti, a parte qualche regoluccia tipo porta chiusa, porta aperta, porta bloccata, oppure semplicemente anche i token dei suoni, qui come funzionano, o il fatto dei blip che si muovono verso di te, se sentono a certa distanza, le armi che si rompono, c'è po' da dischi ve c'è, io ho letto il regolamento mezza volta, poi qualche regola in più c'è, qualcosa non vi ho fatto vedere proprio nel dettaglio le carte, e qualcosina in più c'è ragazzi, però le regole per giocare, sono quelle che vi ho descritto in questo video, sono molto veloci, ora, la cosa che mi garba, c'è una cosa che mi garba di più, e una cosa che mi garba di meno, rispetto a Zombicide, la cosa che partiamo da quella che mi garba di più, è che è uno Zombicide Plus, cioè, ha delle regole survival, che sono veramente, veramente, veramente carine, non hai la paura di aprire una porta, e trovarti 50.000 zombie, in quella stanza che ti stavano aspettando, che naose mi mette un po' d'ansia, sinceramente, che ti può anche andare a scombussolare, delle tattiche, un piano, però mi piace da morire il fatto dello stert, io sto dietro un angolo, mi immagino il mio Marine, con l'arma rotta, magari se mi beccano sono morto, dietro l'angolo, speriamo che il blip non venga verso di me, speriamo tiro il dado, e il blip vada in altra parte, e poi, anche questa meccanica qui del blip, che viene rivelato, quando entra in linea di visuale, quindi proprio spiccicato, spiccicata, Space Hulk, mi garba da morire, perché è l'idea di loro, che si aggirano per la nave, col rilevatore di movimento, e non sai se c'è qualcosa davanti a te, ma soprattutto non sai, magari l'hai visti, ma non sai quanti sono, ti dà un pochino più di strizza, perché in Zombicide lo vedi, il fiume di mostri, di zombie, o d'alieni, che ti vengono incontro, te li conti e fai, eh oh, sono quello più vicino, prossimo turno mi vengono addosso, sono morto, cioè, in Zombicide te vedi nel futuro, lo sai quando sei morto, perché te, se il tuo personaggio è qui, e qui c'è una marea di zombie, che sono tutti vivi, magari ci sono anche 3-4 runner, te già dal turno prima saluti i ragazzi, e fai, ragazzi sono morto, quindi andate avanti voi nell'avventura, che intanto sai che il turno dopo verranno da te, e ti ammazzano, qui invece no, sì ovvio, se ce l'hai tutti nelle vicinanze che ti vedono, dove vuoi che vadano, verranno verso di te, però fino a che usi un po' di tattica, stai nascosto dietro un angolo, oppure sei dentro una stanza, non sei in linea diretta di visuale, il mostro potrebbe andare altrove, e questa è una cosa ragazzi, che vi giuro mi garba 10 volte di più di Zombicide, è una regola molto interessante, se non ti vedono, non sanno che ci sei, a meno che tu non abbia fatto il rumore, sei zitto, magari vanno, cioè scuri ti vengono conto e vanno oltre, la cosa che invece mi è piaciuta meno rispetto a Zombicide, che le miniature dei mostri le vedo poco ispirate, mettiamole così, bellissime, voto 10 alle miniature, però, boh, non mi ci stanno tanto, cioè nel senso, sembrano mostri presi un po' da Gears of War, cose del genere, cioè questa è la storia della nave Ikari, che è una nave di esplorazione, stanno creando questa razza evoluta, per provargli a fare andare a colonizzare un pianeta, a vedere come resistono, però gli avrei fatto qualcosa di più, non ce le vedo tanto queste mine, ora forse questo VC, bello a prova di gravità, bello grosso, ticce e tutto, però insomma questa creatura bellissima, ma fatta in questa maniera, non ce la vedo tanto, mandata, provata in lavoratorio, e mandata su un pianeta, a cercare di colonizzare un pianeta, cioè lo vedo più un incubo, Lovecraft, allora io avrei fatto un'altra cosa in questo gioco a livello di ambientazione, o dicevi che questa nave qui era finita in un varco temporale, in un buco nero, ti potevi inventare in un wormhole, ti potevi inventare quello che ti pareva, tipo Event Horizon, facendo un salto, si era attirata delle creature disumanamente brutte, uscite dall'inferno e dagli incubi, ci poteva stare, o magari avrei fatto, le avrei fatte diversamente, le avrei create tipo delle specie di umanoidi, molto più potenziati, o comunque delle creature, sono belle, però per la storia del gioco, secondo me ci si adatta un po', che quello forse è una cosa che un po' non mi ha fatto soggiornare, però comunque, le meccaniche ci sono, quindi se devo dare un voto a questo gioco, li do assolutamente, un 8 e mezzo su 10, ragazzi Endure the Stars, bellissimo, occhio, però questo è un gioco per tutti, l'età l'abbasso, secondo me anche 11 anni, ma anche 10, sono convinto, ci metti un ragazzo nei 10, ce lo fai divertire, regole facilissime, si capiscano subito, per chi viene da Zombicide, non legge nemmeno il regolamento, piglia e parte, cosa negativa ovviamente di questo gioco, è chi cerca qualcosa in più, in un gioco del genere, in un dungeon crawler, e magari non vede una recensione, se lo compra, gli arriva a casa, fa, ma io ce l'ho già a Zombicide, sì, perché ci sono quelle 5, 6 regole in più, ma poi per il resto è Zombicide, quindi, allora, se siete come me fanatici di Zombicide, è uno dei giochi, anzi, per certe cose è anche più bello, ve l'ho detto, rispetto alla controparte, però, per chi cerca qualcosa in più, magari ci rimarrà un po' male, che potrebbe dire, però è troppo simile, altri giochi che ho già, quindi, sappiate che è un gioco molto ispirato, molto simile, che mette delle regole in più, però secondo me, è una figata assurda, perché ti ci mette una componente, del tutto survival, che in un altro gioco, mancava, in un altro dungeon crawler, del tipo, mancava assolutamente, quindi, 8 e mezzo, passate appena i voti, ringrazio la Grimlord Games, per avermi offerto una copia per la recensione, ragazzi, non si trova in Italia, questo no, lo dovete ordinare da loro, però spero che qualcuno lo prenderà, perché è bello, ragazzi, è veramente un bel gioco, e secondo me, per quanto l'inglese è molto semplice, da leggere tutto, però, soprattutto in questo manuale, ci vorrebbe un'edizione italiana, primo link in descrizione, dove acquistarlo, ringrazio anche una volta di cuore, la Grimlord Games, sperando che questa collaborazione, possa durare, e poi, a seguire sotto, tutti quanti i link, dai nostri social, ciao ragazzi, alla prossima, Grazie. Grazie.